l'ho fermata e poi lui perché sennò poi deve perché hanno come si dice la partenza minima sarà 4 euro 5 così invece le ha speso di meno ho messo la fermata ho dato a lei 5 euro quindi va 20 euro con la carta ha pagato lei siamo a posto grazie mille grazie a lei buonasera buongiorno io